Lo sai cosa sono i makers? Sono persone che fanno. Uomini e donne appassionati di tecnologia, elettronica ed informatica che realizzano progetti creativi e innovativi. Si chiamano anche artigiani digitali perché usano attrezzi e macchine tradizionali, ma anche stampanti 3D, computers e software liberi. I makers non lavorano soli ma in team, sono un movimento internazionale e anche a Make it Modena una numerosa comunità si ritrova tutte le settimane per condividere competenze, conoscenze ed idee. Siete curiosi di sapere cosa fanno i nostri makers? Partiamo con Nebula Clean Plane, un aspirapolvere robot comandato anche da smartphone. Pulire casa diventa un gioco. Ecco un piccolo congegno che permette di realizzare video e foto panoramiche in stabilità con lo smartphone. Si chiama Spin Phone. Proseguiamo con Liz Hand, la mano robotizzata che parla il linguaggio dei segni. Ed infine non perdetevi Mr. Nunn, il primo art toys open source da creare grazie alle stampanti 3D. Smettila di annoiarti, fai qualcosa, vieni in palestra digitale!